Ciao ragazzi! Io sono Menka ASMR, questo è il mio canale e sei sempre il benvenuto o la benvenuta Ciao a tutti! Quindi, premetto che ho qua sotto la bestiolina che avete visto sicuramente per chi ha visto il video del gattino sa di cosa sto parlando ed è qua seduta sotto di me, dorme quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi qualora si svegliasse la sentireste il video di oggi sarà un video molto 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 semplice un video molto 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 semplice 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 è probabile che voi sentiate anche qualche uccellino di sottofondo spero non troppo invadente anche perché è vero che la natura è meravigliosa ma a volte alcuni uccellini sono molto rumorosi oggi andrò un po' a parlare insieme a voi di questo ultimo periodo visto che sto girando un pochino meno video visto che ho ripreso a lavorare voglio un po' parlare con voi dirvi come sto, come me la sto passando e vorrei usare anche un trigger senza fare troppo rumore eccolo molto delicato spero anche poco invadente a me lo sticky finger piace tantissimo perché è un suono davvero molto delicato spero che piaccia anche a voi e quindi sì come dicevo ho ripreso a lavorare con molta gioia in realtà per chi non lo sapesse io faccio la barista ed è un lavoro che mi piace tanto siamo stati chiusi per vario tempo un po' per il covid un po' per alcune ristrutturazioni che facevano all'interno del locale però adesso abbiamo ripreso e sono molto contenta perché comunque lavorare perlomeno lavorare come lavoro io ossia facendo un lavoro part time mi aiuta un po' a scaricare un po' di energie cosa che stando a casa tutti i giorni magari non si riesce e in più mi aiuta ad apprezzare tantissimo il tempo libero che ho e quindi cerco di impiegarlo nel migliore dei modi ci sono state delle giornate bruttissime perché ha piovuto guidami nelle marche non so se anche da voi ma penso un po' in tutta Italia il tempo sia stato un po' così incerto però siamo riusciti sempre a fare qualcosa di alternativo piuttosto che stare a casa tutto il giorno quindi siamo andati all'IKEA abbiamo fatto un giro siamo andati a trovare degli amici abbiamo passato un pomeriggio una serata tutti quanti insieme nonostante la pioggia abbiamo trovato un posto al coperto e ci siamo divertiti tantissimo poi un'altra cosa che ho apprezzato in queste ultime settimane da quando ho ripreso a lavorare è stato lo sprono che è riuscita a darmi una ragazza in particolare che ho conosciuto e diciamo che mi ha riattivata quasi mi ha dato quella scintilla quello sprint che ora rende tutto davvero completo quasi ho avuto modo di starci insieme e mi ha dato tanta grinta tanta grinta soprattutto quello che a me piace fare che non ho mai voluto approfondire ossia lo skate e lo skateare per chi mi segue su instagram vi lascio qui mi trovate come JD Menka sa che è da tantissimo che comunque frequento gli skatepark perché mio marito ne ha fissato però non mi sono mai applicata quanto avrei voluto un po' per un blocco mentale un po' paura di farmi male e un po' perché mi mancava questa figura questa scintilla che che mi spronasse che mi dicesse che ce la potrei fare che mi dicesse che non importa se cadi perché comunque ti rialzi tutti quanti cadono non ti farai male e se ti fai male poi ti passa ecco e ho trovato questa persona e sono molto contenta perché significa tanto soprattutto in questo momento per me quindi ecco nonostante la pioggia e il brutto tempo ho avuto modo di fare queste belle esperienze in questi giorni sto andando a skate sempre con quella gioia e quella motivazione in più e quando riesco a fare qualcosa di concreto e sono cose semplici non cose esagerate cose basilarie ecco che anche prima avevo paura solo di quelle per dire e adesso quando riesco a farle mi caso tantissimo quindi il mio messaggio per voi quest'oggi è quello di cogliere quei momenti o quelle persone che vi fanno stare bene perché sicuramente porteranno altro bene all'interno della vostra vita e delle vostre giorni sconate quando pensate che una cosa non fa per voi o comunque magari vi piace ma credete di non poterla fare non è vero perché magari non avete trovato quella scintilla quello sprint in più per farla per attuarla quindi voglio lasciarvi questo messaggio positivo incoraggiante di non non demoralizzarvi non arrendervi e non buttarvi giù se qualcosa non vi viene subito o se come nel mio caso avete aspettato più di un anno prima di fare quello che effettivamente vi piaceva ma non avevate il coraggio a volte può passare del tempo c'è chi in una settimana si sblocca a me ci è voluto un anno prima di intraprendere questo percorso che sto facendo un anno non è poco tante volte mi sono ritrovata magari un po' scoraggiata non tanto per il fatto che non ottenessi risultati ma proprio perché non riuscivo a sbloccarmi quindi non solo non ottenevo risultati ma praticamente non ottenevo nulla però è arrivato anche il mio momento di gioia che è stato ovviamente una cornice di tutta la gioia che già contorna la mia vita quindi è stato un tassello in più da aggiungere alle gioie e alle soddisfazioni di tutti i giorni ho scelto oggi questo parattolo perché la mia cara zia mi ha regalato questa cosa tipo la nutella della pantistelle ed è molto carino perché tutta tutta la grafica insomma che c'è sopra è stampata sul vetro non ci sono delle oddio ho scoperto una cosa triste che in realtà c'è un adesivone gigante che non avevo visto e pensavo che fosse tutto stampato sul vetro niente epic fail vabbè comunque mi piaceva era carina la uso a volte anche come porta candela cioè ci metto le candele quelle piccoline qua dentro tutto qua quindi niente tornando a noi il motivo per cui sto girando pochi video questo ultimo periodo come ogni estate quasi è proprio perché ho tantissime cose da fare all'aperto in giro mi vedo con gli amici e quindi è più forte di me e non riesco a concedermi così tanto tempo da poter stare insomma in casa a registrare ogni tanto succede e sono contenta perché comunque non so se ve l'ho mai detto anche il mio registrare video viene da un momento comunque di creatività che non è indifferente per me perché non riesco a registrare in qualsiasi momento della giornata quindi a molti succede che magari hanno un'ora libera e la utilizzano per registrare a me capita ogni giorno di avere un'ora libera sicuramente ma non ho la giusta motivazione non ho la giusta carica magari non ho un argomento in mente o un concetto che voglio esporre o un messaggio che voglio fare arrivare quindi non trovo profittevole sia per me che per voi registrare in quel momento solo perché ce l'ho libero perciò ecco volevo dirvelo perché ogni estate è così non riesco a registrare come in altri momenti e voglio dirvi appunto che il motivo è questo perché ho tante attività che comunque voglio svolgere non voglio concentrarmi solo su una cosa nonostante che mi piaccia però ecco voglio trovare la gioia anche da varie altre cose e quindi ecco questo era un semplice video per spiegarvi un po' quello che che sto affrontando in quest'ultimo periodo ora vi farò un po' di di sticky finger su questo tappo e stare zitta almeno un minuto così che ve lo possiate godere al massimo adesso la c'è la c'è un che c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente ragazzi, spero che questo semplice video di oggi vi sia piaciuto. Infortunatamente la nostra amica qua sotto non ci ha disturbati, quindi tanto sono molto contenta di aver passato questo tempo insieme a voi e di avervi raccontato un po' come va questo periodo. Alla fine sono delle piccole gioie che mi fa piacere condividere con voi. Io vi mando dei bacini enormi e niente, grazie di essere stati qui e ci vediamo in un prossimo video.